Ciao a tutti e tutte da Serie TV Italia. Brave and Beautiful, ovvero Cesur Vegusel che tradotto in italiano sarebbe coraggioso e bello, è una serie TV turca dal genere drammatico sentimentale, andata in onda in Turchia su Star TV tra il 2016 e il 2017. In Italia, è andata in onda la prima parte su Canale 5, dal 5 luglio 2021 fino al 10 settembre. Di sicuro la serie Brave and Beautiful, ha fatto impazzire le italiane che hanno seguito con molta attenzione, la storia tra Cesur e Swan con un auditel molto alto. Come sappiamo, le serie TV straniere arrivano in Italia 4-5 anni dopo la loro uscita, perciò, in questo video vi mostreremo il volto di Cesur e Swan oggi, e di tutto il cast di Brave and Beautiful. Ma prima di andare avanti, noi di Serie TV Italia vogliamo ringraziarvi per l'affetto che ci dimostrate. Da poco abbiamo superato la soglia dei 4.000 iscritti, e per festeggiare vogliamo accontentare i nostri fan. Se volete vedere dei video specifici per una sotto, o un attore in particolare, scrivetelo sotto nei commenti. Sarà nostra premura accontentarvi. E ora, non ci resta che vedere questo nuovo video. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.